Musica Uomo accoltellato ad Ancona da un nord africano per un rimprovero Donna Fanese finisce fuoristrada con l'auto portata in ospedale in codice rosso Tamponamento a catena sulla superstrada Fano Grosseto coinvolti un tire due auto Passaggio di consegne tra donne questa mattina alla Capitaneria di Porto di Pesaro Riaprono a Fano gli asili nido comunali cancellate tutte le restrizioni anti-covid Al Via La Fiera di San Nicola a Pesaro l'assessore Belloni illustra le modifiche alla viabilità cittadina La storia di Manuel De Marc, un giovane fanese affetto da sindrome di Down che crea penne uniche di grande valore artistico Sul canale 19 di Fano TV c'è il telegiornale locale Occhio alla Notizia che questa sera apre da Ancona Dove c'è una notizia di cronaca in primo piano un 54enne di Osimo è stato ferito con un coltello da un 52enne tunisino Quest'ultimo rintracciato poi dalla polizia è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate A scatenare l'aggressione da parte dello straniero sarebbe stato un rimprovero L'usimano infatti avrebbe chiesto al tunisino di smettere di molestare e offendere i clienti di un bar Rintracciato dagli agenti il nord africano è stato trovato senza coltello forse gettato in mare Ma sarebbe stato riconosciuto da molti testimoni presenti Una donna fanese di 76 anni è rimasta ferita in un incidente stradale autonomo avvenuto in località Magliano Nel comune di Fano la donna che era alla guida di una Hyundai Dopo aver sorpassato l'azienda vinicola Montegiove per cause ancora in fase di accertamento è uscita di strada L'auto ha percorso la piccola scarpata con le ruote di destra e poi si è ribaltata sul fianco sinistro a pochi metri da dove era fuoriuscita La 76enne è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco ed è stata trasportata dal 118 cosciente ma in codice rosso Al pronto soccorso di Fano sul posto anche la polizia locale Disaggi al traffico oggi invece si sono registrati intorno alle 14 del pomeriggio lungo la superstrada Fano Grosseto dove si è verificato un tamponamento a catena È successo all'altezza del centro commerciale Fano Center in direzione Monte Nell'incidente sono rimasti coinvolti un tir e due auto La conducente e un passeggero di una delle vetture sono stati portati al pronto soccorso di Fano dove non si conoscono ancora le condizioni di salute Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale che ha deviato il traffico nell'area del distributore di carburante per permettere le operazioni di soccorso ed eseguire i rilievi di legge Andiamo al porto di Pesaro adesso dove c'è stato invece l'avvicendamento tra comandanti, un avvicendamento tutto al femminile A una settimana esatta dal cambio al vertice della guardia costiera di Fano, questa mattina Barbara Magro ha lasciato l'incarico di capo del compartimento marittimo E comandante del porto di Pesaro al capitano di fregata Claudia Di Lucca, presenti alla cerimonia le autorità civili, militari e religiose Le quote rosa in capo di porto stanno aumentando, credo che questo sia uno dei primi casi, dei primi eventi di passaggio di consegne che si alternano due donne Tra l'altro due ufficiali che conosco di provata esperienza, di cui la Magro, dobbiamo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per il territorio di Pesaro È stata molto determinata, molto assidua nelle sue attività e quindi vale davvero il mio personale applauso Alla subentrante, il comandante di Lucca, facciamo i migliori auguri Sono sicuro che farà del suo meglio per il porto di Pesaro, per la città di Pesaro e per tutto il territorio che vale la pena di visitare anche perché sono bei territori Il cambio al vertice è stato anche l'occasione per condividere l'intenso lavoro svolto negli ultimi due anni al servizio della cittadinanza pesarese che per tradizione e storia è legata al porto e al mare Questi due anni sono state svolte tantissime attività, sia in materia ambientale che di polizia demaniale Ho avuto il supporto e l'aiuto di una squadra meravigliosa e un dialogo non comune con le istituzioni Attività coordinate sapientemente e in maniera incredibilmente equilibrata dalla procura della Repubblica Mi sono trovata veramente molto bene a Pesaro e quel che ho detto durante il discorso Lascio Pesaro con la malinconia di chi è stato bene Però mi porterò dietro un bagaglio di esperienze professionali e personali che mi accompagneranno per il resto della carriera Il mandato, ha poi assicurato la nuova comandante, sarà sviluppato nel segno della continuità Io ho iniziato nel 2001, era da poco aperta alle donne la possibilità di partecipare ai concorsi delle forze armate La mia passione per il mare, in primis la mia passione per i valori rappresentati da una divisa e dalla forza armata Mi ha spinto a partecipare a questi concorsi, poi fortunatamente anche a superarli Quindi poi ho iniziato con la capitania di Porto di Salerno, con l'ufficio circondaliare marittimo di Torre Anuziata Dove ho fatto il comandante per tre anni, comandante in seconda a Siracusa E ora arrivo qui a Prodo a Pesaro con l'incarico di comandante In una capitaneria che di Lucca ha definito una bellissima realtà Un equipaggio compatto, è una realtà anche cittadina, anche in rapporti con le istituzioni assolutamente positivi Quindi ci sono tutte le premesse per far bene L'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza di Ancona hanno sequestrato più di 120 tonnellate di pannelli in cartongesso Non in regola con le normative vigenti Il materiale, per un valore di oltre 40.000 euro, era contenuto in cinque container provenienti dalla Turchia Ed importati da una società con sede nella provincia di Bolzano Il sequestro amministrativo è scattato perché i dati sulla provenienza erano tali da indurre il consumatore A ritenere erroneamente che la merce fosse di origine italiana anziché turca Ora i responsabili rischiano una sanzione che va dai 10.000 ai 250.000 euro E adesso torniamo a Fano, parliamo di asili nido perché dopo le norme restrittive legate alla pandemia Negli asili nido del Comune di Fano si torna alla normalità Oggi abbiamo fatto il punto con l'assessore di riferimento, Samuele Mascarin Che ha ricordato anche i progetti per le due nuove sezioni a Bellocchi di Fano e al Vallato Vista la grande richiesta di iscrizioni che tra l'altro è aumentata di oltre il 30% Addio alle bolle, al triage e agli ingressi scaglionati Gli asili nido del Comune di Fano hanno riaperto con una settimana di anticipo rispetto alle scuole E senza restrizioni legate al Covid Dunque i bambini sono tornati a giocare tutti insieme Chiudendo nel cassetto dei ricordi quelle regole imposte anche a loro fino a pochi mesi fa Mercoledì 7 i servizi 03, quindi nido, sezioni di raccordo, sezioni primavera Sono stati riaperti e hanno ripreso la loro attività Questo per rispondere ovviamente ai bisogni delle famiglie Ma anche al bisogno di socialità delle bambine e dei bambini più piccoli E insieme alla riapertura dei servizi 03 è ripartito anche il servizio di riflessione Per cui già dall'altro ieri le nostre cucine comunali sono rientrate in funzione Il prossimo passaggio importante è quello ovviamente dell'avvio dell'anno scolastico 22-23 Che è previsto per il prossimo 14 settembre per la scuola dell'infanzia sia comunale che statale Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado Anche qui alcuni punti fermi per quanto riguarda i servizi comunali Quindi soprattutto ricordiamo che rifezione scolastica e trasporto scuolabus Saranno garantiti per tutti coloro che sono iscritti a questi servizi Già dal primo giorno di scuola, quindi dal 14 settembre Per la scuola dell'infanzia, ha proseguito l'assessore, siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste Le iscrizioni sono state 526, per i servizi 03 invece è stato registrato un aumento di oltre il 30% Qui i bambini che sono stati accolti sono 263 e ne abbiamo invece in lista di attesa 102 Quindi un numero sicuramente molto significativo Ed è il motivo per cui abbiamo programmato e già finanziato la realizzazione di nuove sezioni di nido All'interno del nuovo polo dell'infanzia di Cucurano E abbiamo candidato per i fondi PNRR due progetti per la realizzazione di un nido a bellocchi e di un nido a vallato Proprio perché c'è la necessità, oltre a ridurre le tariffe come abbiamo fatto O di prolungare l'orario di questi servizi come abbiamo fatto Di fare un investimento anche sugli spazi e sull'istruttore Jessica rispetto agli anni passati, finalmente si torna alla normalità Si, si torna senza mascherine, quindi con i nostri sorrisi Con le possibilità di comunicare con i bambini e le famiglie per intero E si torna finalmente con gli spazi a disposizione di tutti i bambini, tutti gli spazi Questo vorrà dire per noi diffondere le esperienze educative Moltiplicarle le possibilità di gioco dei bambini, i laboratori, gli atelier In tutte le scuole comunali di Fano, 06, nido, scuola dell'infanzia Il bambino muovendosi nei luoghi educativi incontrerà diverse opportunità di gioco Ad accesso libero, con degli adulti capaci e competenti a supervisionare E a fare delle proposte anche molto interessanti, secondo me Continuiamo a parlare di asili Perché nei giorni scorsi abbiamo parlato di due asili in particolare L'isola che non c'è, con una segnalazione, una grossa crepa nel muro E poi la scuola dell'infanzia, la trottola, torrette Dove i genitori denunciavano buche nel giardino In giardino infiltrazioni d'acqua, termosifoni senza protezioni Beh, insomma, queste erano le segnalazioni che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi Oggi l'assessore del Comune di Fano, Fabiola Tonelli Ci fa sapere che per quanto riguarda il primo Cioè l'isola che non c'è Ha assicurato che questa crepa non compromette affatto la stabilità dell'edificio E che i bambini possono iniziare regolarmente a frequentare l'asilo Inoltre, ieri, in accordo con l'assessore Mascarini, è stata stabilita una variazione di bilancio di 35 mila euro Per eseguire i lavori il prima possibile Invece, per l'altra struttura, quella di torrette Entro il 14 di settembre si interverrà nel giardino Poi, così come per gli altri plessi, il Comune sta lavorando ad un piano di efficientamento energetico Che comprenderà il rifacimento degli infissi e del tetto Nuove zone d'ombra nelle parti esterne E interventi agli impianti termici E a proposito di riapertura delle scuole Il Sindaco di Fano Massimo Seri oggi ha firmato un'ordinanza Con la quale dispone i trattamenti contro la zanzara tigre L'attività che verrà svolta nelle aree verdi di tutti i plessi Dai nidi alle scuole medie Verrà eseguita dalle 6 alla mezzanotte di sabato 10 settembre E dalle 18 alla mezzanotte di lunedì e martedì prossimi Con il provvedimento emanato dal Comune Si ordina al personale scolastico E chi abita o ha la disponibilità di un immobile Nelle vicinanze delle strutture Di tenere alcuni comportamenti Ad esempio, si consiglia di ricoprire con i teli di plastica I giochi per bambini e gli abbeveratoi Mentre durante il trattamento Si vieta di passeggiare nelle aree interessate Di raccogliere piante ed erbe E di utilizzare gli impianti di area condizionata Inoltre, sarà necessario chiudere in casa Gli animali domestici Tenere ben chiuse le porte e le finestre E non esporre all'esterno la biancheria Infine, dopo il trattamento Bisognerà aspettare almeno 15 giorni Prima di consumare frutta e verdura Che siano state bagnate dai prodotti insetticidi Da domani a domenica Torna a Pesaro la fiera di San Nicola Il San Nicola ovviamente è un momento molto importante Per la comunità pesarese E non solo Quest'anno c'è un'esplosione di richieste Anche di bancarelle e di espositori Questo è quello che ci arriva appunto Da Aspes e Pesaro parcheggi Che gestiscono l'evento La viabilità subirà qualche momento di forte criticità Perché nella zona del mare Dalla statale di Viale della Vittoria Fino a Viale Trieste Subisce come sempre delle modifiche E quindi avrà delle criticità importanti Noi veniamo incontro a quelle che possono essere Le esigenze dei cittadini rispetto al parcheggio Rispetto alle code che possono essere più lunghe del solito Attraverso la messa a disposizione di navette Che partiranno dalla zona del McDonald's di Perrossini Quindi via Grande Torino Per chi arriva dall'interno E il solito parcheggio del San Decenzio Per chi vive in città Ovviamente la viabilità deve garantire percorsi di sicurezza Che passano attraverso la zona di via Zanelli Il lato sud di Viale Trieste Fino a via Colombo per uscire in via Zara E poi i mezzi si mettono e ritornano sulla statale Si fa particolare attenzione appunto al transito dei mezzi di sicurezza Perché è prevista una grande affluenza di pubblico Quindi dobbiamo garantire tutti i presidi necessari Ovviamente la zona Porto Anche quella subisce delle variazioni Soprattutto su via Napoli Non sarà più a senso unico Ma avremo la possibilità di fare un torno indietro E l'invito che noi facciamo a chi verrà alla fiera I pesaresi di muoversi a piedi con il bontorino e le biciclette A chi viene da fuori utilizzare le navette Che garantiscono il loro servizio fino alle 23.30 Il diritto parte sostanzialmente dalla notte di venerdì Tra venerdì e sabato Per poi allungarsi fino alle lunedì notte E Fano partecipa dal 16 al 22 settembre Alla settimana europea della mobilità sostenibile Tanti gli appuntamenti in programma Per la sesta edizione consecutiva Il Comune di Fano aderisce alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile La campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea A cui aderisce il Ministero dell'Ambiente Che offre ai Comuni La possibilità di diffondere una cultura sostenibile E avvicinare i cittadini a questa pratica Attraverso convegni o eventi Dal 2002 infatti La Mobility Week vuole migliorare la salute pubblica E la qualità della vita Promuovendo azioni Volte a favorire la diffusione di una mobilità pulita E un trasporto urbano a basso impatto Tema di quest'anno È migliori connessioni Che ha come intento Quello di evidenziare e promuovere le sinergie Tra le persone e i luoghi A Fano sono più di 7 gli appuntamenti Sparsi in tutta la città Aperti a tutti dal 16 al 22 settembre Ci saranno degli eventi importanti Il primo sarà il 16 settembre Con il Giretto d'Italia organizzato Dalle Gambiente Nazionale Gli incontri più importanti saranno il 16 Il 18 e il 22 Fuori della settimana europea Ci saranno altre iniziative Organizzate da Fiat Forbici Il 10, il 17, l'11 settembre E anche il 24 settembre Domenica 18 il Comune ha organizzato Questa pedalata cittadina In collaborazione con Forbici Quindi partiremo da Sant'Orso Si potranno provare anche monopattini elettrici Bird gratuitamente Si arriverà al porto per cenare tutti insieme Troverete tutte le informazioni e il programma completo Sul sito del Comune di Fano Link di prenotazione compresi E tutte le informazioni della settimana L'appuntamento Gli invece il 22 settembre In centro a Fano È organizzato da Techfem Azienda operante nel campo dell'energia Che mira a sensibilizzare Ed avvicinare la cittadinanza Il mondo produttivo Alla mobilità e alle soluzioni green Nella mattinata dalle 9 alle 13 Ci sarà un workshop nel quale interverranno Professori universitari E imprenditori e specialisti Della mobilità sostenibile Quindi parleremo di e-bike Mobilità elettrica E anche mobilità condivisa pubblica Con Massimo Benedetti di Ami Nel pomeriggio invece ci trasferiremo In Piazza 20 Settembre Dove abbiamo allestito Grazie al Comune di Fano Degli spazi In cui sarà possibile fare proprio dei test drive Sia con le e-bike Sia con la mobilità singola elettrica Quindi auto elettriche Quindi si partirà dalla piazza E ci sarà anche uno spazio dedicato ai più piccoli In cui le associazioni Che i nostri partner Avvieranno i più piccoli All'utilizzo Ai benefici che la mobilità ciclabile Quindi con la bicicletta Può darci all'interno della nostra città E adesso vi raccontiamo la storia di Manuel De Marc Un giovane fanese Che è affetto dalla sindrome di Down Che però Crea penne uniche E di grande valore artistico Un campione nella vita e nello sport Lui è Manuel De Marc 26enne fanese Affetto dalla sindrome di Down Titolare della bottega I truccioli di Pinocchio Pluricampione di bocce Emanuele eccelle anche in altri sport Come il nuoto e il tiro con l'arco Nel 2015 Ha ricevuto dal presidente napolitano L'onorificenza di alfiere Della Repubblica Italiana Per condotta di vita e meriti sportivi e artistici Allora Manuel tu hai un talento innato La tua è una storia fra la favola e la realtà Che cosa sono i truccioli di Pinocchio? I truccioli di questa bottega È la bottega in cui lavori? Sì In cui realizzi le tue penne In cui realizzi i tuoi sogni? Sì sì Fra l'altro Manuel tu hai dato una penna Quindi hai realizzato appositamente una penna Per il cantautore Luca Barbarossa È così? Sì È una soddisfazione E di soddisfazioni Manuel ne ha avute veramente tante Sin dai tempi della scuola Il 26enne infatti Ha conseguito la licenza media con il punteggio di 8 Seguendo il programma di classe identico ai suoi compagni Questa prima importante conquista Lo ha portato a fare un'altra grande scelta Che ha dato una svolta alla sua vita Infatti nel 2010 Ha deciso di frequentare il liceo artistico a Polloni E dopo il biennio Si è iscritto alla sezione di design Oreficeria e oggettistica d'arredo Poi a solo un anno dall'inizio Ha cominciato la sua attività di artigiano ubista Affiancato dal papà e maestro d'arte Daniele De Marc Ed ecco le quali sue creazioni Penne realizzate a mano Di indubbio valore artistico A seguire tutte le sue esperienze È stato anche il poeta dialettale E amico di famiglia Elvio Grilli Ha diverse qualità Questo ragazzo che diciamo è un pochino Una perla rara nel nostro panorama Ha raccolto in sé Tante esperienze Che lo hanno portato Nel corso della vita Ad avere moltissimi premi I miei soddisfazioni Ma sono tutto frutto del proprio impegno E della propria capacità Grilli poi ha parlato delle penne realizzate da mano E con pezzi di legno Che provengono da diverse parti del mondo E sono veramente pezzi unici E credo che ne abbia costruite Circa duemila attualmente Che poi sono andate sparse In ogni dove E sono piccoli capolavori Capolavori che lui poi realizza Con il turnio Che possiamo vedere qua di fianco In questo momento è inoperoso Però siamo veramente in una bottega artigianale E nulla di più bello Nel titolo I truccioli di Pinocchio Perché è proprio Veramente male È proprio un artista Un artigiano Un vero artista del legno Tra l'altro queste pene a mano Le hanno portato successo Sia in Italia Che all'estero Ovunque Sì Perché sono dei cadò Non realizza solo pene Realizza anche porte chiavi Che realizza anche altri piccoli souvenir Che possono essere richiesti Abbiamo di fronte a noi Una persona veramente speciale Manuel tu hai realizzato un sogno Qui con le tue penne Con tutti i truccioli di Pinocchio Eh sì sì Sei contento? Molto Davvero straordinario Oggi pomeriggio All'Ido di Fano È stata inaugurata La ventesima edizione Del Brodetto Fest Il taglio del nastro Dato il via Di incontri Degustazioni Cooking show Con grandi nomi Dello spettacolo E chef Che hanno fatto La storia Della cucina italiana Spazio anche Ai più piccoli collaboratori Dedicati Alla conoscenza del cibo Di qualità E alla scoperta del mare Questa sera Poi alle 21.30 Salirà sul palco centrale L'attore Conduttore televisivo Gianmarco Tognazzi Che racconterà La sua storia E la sua passione Per il vino Dialogherà con Il conduttore Rai Paolo Notari Tutti i dettagli Dell'evento Che proseguirà Fino a domenica Li troverete Sul nostro sito Internet Occhilonotizia.it E sarà la comica Emanuela Aureli A chiudere domani sera Gli eventi Estivi Di Cartoceto L'iniziativa Che si svolgerà In piazza Papa Giovanni Paolo II A Lucrezia Inizierà alle ore 21 Con il repertorio Pop Del corpo bandistico Si proseguirà Alle 21.45 Con Emanuela Che metterà in scena Il suo spettacolo Di gag e imitazioni La comica e attrice Non mancherà Di proporre alcune Tra le sue imitazioni Più Più famose Più riuscite Come quelle di Barbara D'Urso Mili Carlucci Loredana Bertè Ornella Vanoni E Raffaella Carrà Dalle 22.45 Invece Spazio alla musica Con il corpo bandistico Di Cartoceto E il DJ Corrado Cori E questa era L'ultima notizia Tra poco La pubblicità Le previsioni Del tempo E poi uno speciale Dedicato alla festa Di fine estate Organizzata Da impronte Femminili E dall'assessorato Alle pari opportunità Del comune Di Fano Sul canale 19 Di Fano TV L'informazione Tornerà domani mattina Alle 7 In diretta Con Occhio ai giornali La rassegna stampa Arrivederci